Dopo il governo giapponese, anche il Consiglio regionale del Piemonte ha voluto premiare l'impegno dell'Associazione Yoshin Ryu. Il Presidente dell'Assemblea, alla presenza del Consule Generale del Giappone Milano, Shiniki Nagatsugawa, ha consegnato una targa al Presidente Cesare Turtoro, quale riconoscimento per la professionalità e l'impegno culturale, sportivo e sociale svolto.